In Toscana, a 20 chilometri da Arezzo, troviamo uno dei più bei borghi mediavali d'Italia, Luciniano. Qui ogni anno nel mese di maggio si svolge la famosa Maggiolata, un rito antico fatto da una esplosione di colori, fiori e cari agricoli con prodotti di alta qualità. Il 2017 è un anno particolare per Luciniano. La Maggiolata compie infatti i suoi primi 80 anni di storia. Un avvenimento che la dinamica sindaca Roberta Casini ha potuto celebrare addirittura in Parlamento. Voglio ringraziare la presenza di Coldiretti, la presenza della filiera agricola italiana, la cooperativa del Golfo che quest'anno scegli con le musiche di Vivaldi, proprio perché crediamo in questa filiera del fiore italiano. Non solo, quest'anno c'è il mercato di Campagna Amica. Ripeto, per noi non a caso il partner quest'anno della maggiorata è Coldiretti, perché crediamo veramente nella proporzione dei nostri prodotti e crediamo di averli rilasciati.